Oggi gli utenti dei mezzi pubblici rischiano di rimanere a piedi a causa dello sciopero nazionale del trasporto urbano ed extraurbano indetto da Cigelle e Cisle Will. In Abruzzo gli autisti degli autobus e dei treni incrociano le braccia dalle 19.30 alle 23.30 nel rispetto delle fasce garantite. Gli addetti alla circolazione dei treni di Trenitalia invece si astengono dalle 9.01 alle 17.01. Venerdì 26 luglio la serrata riguarderà il trasporto aereo. A Pescara dove i tassisti non hanno aderito alla protesta una delegazione guidata dai segretari regionali di Filt Cigelle, Filt Cisle, Will Trasporti, Franco Rolandi, Amelio Angelucci e Giuseppe Murigni in prefettura ha ribadito le richieste avanzate nei giorni scorsi al governo ed ha criticato le scelte della regione. Sciopero confermato? Sì assolutamente confermato anche se c'è stato nella tarda serata di ieri un tentativo da parte del governo e del ministro dei trasporti Tonninelli di chiedere alle organizzazioni sindacali di posporre e di rinviare comunque questa azione di sciopero. Noi abbiamo indetto questa mobilitazione nazionale sui trasporti già da un mese a questa parte e siccome le problematiche sono talmente importanti che ci sarebbero state le condizioni per convocare le parti sociali questa cosa è arrivata assolutamente tardiva e noi abbiamo confermato tutta la mobilitazione. Quali sono le vostre richieste prioritarie? Sicuramente partiamo dalla questione infrastrutturale e da una politica dei trasporti che oggi è miope che non investe nei trasporti ritenendo più che questo capitolo sia una spesa piuttosto che una risorsa. Ieri abbiamo vissuto l'ennesimo rinvio di decisionismo da parte del governo regionale noi abbiamo espresso la nostra contrarietà rispetto al fatto che si decida sul trasporto pubblico locale una volta per tutte quali devono essere i servizi minimi, quali devono essere esclusi si avviano soprattutto i procedimenti per gli affidamenti dei servizi ulteriori a quelli affidati in aus alla tua e che riguardano 46 imprese e una moltitudine di lavori imponenti ma soprattutto penalizzano l'utenza che non riesce ad avere un trasporto efficace, efficiente e soprattutto fruibile in tutti i territori della regione. Noi accampiamo ancora la richiesta di applicare una tariffazione unica regionale, soprattutto intermodale. Con Luca Corneli siamo venuti a verificare la situazione alla stazione centrale di Pescara. Al momento sono le ore 11, sono stati cancellati il treno da Bologna centrale delle ore 11.59 e quello per Lecce delle 12.01. Sei in partenza per? Bologna. Il tuo treno sei stato confermato? Le frecce dovrebbero essere garantite, le frecce. Però gli altri non lo so. Sei un utente abituale, prendi spesso i mezzi pubblici? Sì, molto spesso, più o meno una volta al mese, dipende da quando torno a casa, quando risalgo, quando scendo. Qual è il tuo giudizio? Buono, però magari si potrebbe migliorare, soprattutto sulle tratte relative agli autobus, che sono un po' lenti e magari un po' scomodi, però per il resto mi sembrano buoni. Pagano i pendolari, poi io faccio la tratta a penne Pescara, quindi è una tratta molto particolare. Noi paghiamo l'abbonamento e c'è chi non lo paga. Ci sono poi controlli? Sì, ma non li fanno niente, anche perché sono gli immigrati e a chi ne mandi poi.